Mi viene sempre in mente la storia di uno che sta aspettando un trapianto di cuore e gli dicono guardi abbiamo qui due cuori che sono uno di un giovane di 25 anni di splendida condizione fisica e poi quello di un banchiere centrale di 86. Lei cosa sceglie? Il secondo, quello del banchiere centrale. Ma come? Scusi, perché non è mai stato usato.